Pipi? Amelie, oggi noi facciamo mangiare uova. Ok. L'allora non mi ha fatto imparare questo. Così. Ok. Lo sbatte, ecco. Venuto in terra. Di qua. Guardate, guardate, viene. Mickey Mouse. Dovete fare solo attenzione, ragazzi. Così. Eccomi qui. Mettiamo l'olio e poi... Sperate su di pompa. Mi sanno la scurcetta. adesso lo facciamo così lo rompiamo allora un po' di sale così solo tre volte pochissimi ma un puntino solo tre volte vedete come viene bello ragazzi l'uovo viene così bello vedete questo giallo sembra lava quello bianco sembra dei sassi ragazzi ma è vero che sembra una luna una luna gialla qua possiamo già un po' al sale è bello 5 minuti ancora 1 2 3 4 5 si può spegnere è pronto ti lo io ecco la nostra frittata è pronta uovo c'è allora ragazzi adesso noi dobbiamo solo schiacciare bene le hai fatto prima queste cose qua? no non l'ho fatto mai neanche una volta quali? proviamo Iscriviti sul mio canale Metti like E condividi questo video con i tuoi amici Non dimenticare Di guardare altri miei video Ciao Ciao